Nei giorni scorsi è stato aperto il percorso ciclopedonale tra il Parco San Carlo e Via Manin. Con l'installazione di quattro punti luce a LED è stato così completato l'atteso intervento volto a valorizzare il ricco patrimonio ambientale che impreziosisce Pordenone. L'assessore comunale all'ambiente è Nicola Conficoni. Un intervento che ha comportato un investimento di circa 100.000 euro, finalizzato a valorizzare questo polmone d'acqua e di verde che impreziosisce la città rendendolo maggiormente accessibile e dunque fruibile. Ma soprattutto anche una connessione privilegiata tra l'ambito del comparto residenziale di Via della Libertà da un lato e Via Colonna dall'altro che agevola gli spostamenti pedonali e ciclabili. Per metterli in sicurezza abbiamo anche provveduto al rifacimento della pavimentazione lungo lo sbarramento che contribuisce alla formazione del laghetto in legno antiscivolo e abbiamo anche colorato di rosso due attraversamenti pedonali in Viale della Libertà e in Via Beata Domicilla. Questo intervento costituisce un assaggio del percorso che grazie ai fondi europei andremo entro il 2016 a realizzare e che collegherà il Parco di San Valentino al Castello di Torre sfruttando il corridoio ecologico costituito dalla roggia vallona. Un intervento che sicuramente risulterà molto apprezzato e che contribuirà a migliorare la qualità della vita dei pordenonesi.